Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi siamo qui con ben tre pacchetti adrenali come sempre proviamo di trovare delle carte e incominciamo primo pacchetto difficile da aprire poi non ce l'abbiamo fatta allora abbiamo niente codice va bene poi abbiamo due carte speciali che sono due attaccanti andiamo a vedere, allora abbiamo Pessina del Monza Spinazzola della Roma Lobocta del Napoli Agudelo guarda che qua ci sono le speciali Agudelo dello Spezia poi andiamo con questa abbiamo Icone Saetta penso di avere già con lei la Magic 4 della Roma con Mancini, Smalling, Sharawi e Zaniolo bella 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 questa mancante poi mettiamo le carte qua poi abbiamo secondo pacchetto Y mancante buono 1 e 2 portiere logo abbiamo tanto le mettiamo le due speciali qua abbiamo difensore della Fiorentina Igor poi abbiamo poi abbiamo poi abbiamo Giasi dello Spezia Bartolonei Bartolonei della Cremonese della Cremonese e infine abbiamo Bianchetti della Cremonese due speciali scegliamo il logo della Juventus della Juve bello bello portiere portiere abbiamo una speciale però va bene Montipò del Verona ultimo pacchetto di questo questo di oggi vediamo lettera N penso di avere già va bene eh vabbè una speciale l'abbiamo già vista Andarvich portierone poi abbiamo Brian Diaz di nuovo Pessina quanti dove è l'altro Pessina dove è l'altro Pessina l'altro Pessina eccolo due Pessina hanno lo stesso spacchettamento di oggi poi abbiamo Colibali della Serenitana e infine Magère del Dece infine il difensore Udoge diamante quindi prendiamo il nostro bellissimo album qua a fianco a noi e andiamo a mettere le carte allora abbiamo Udoge diamante Udoge diamante quindi diamante in fondo in fondo in fondo doppia 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 poi abbiamo Magère del Lecce 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 172 doppia anche questa che è qua poi abbiamo Colibali della Salernitana vediamo questa qua manca l'altra perché abbiamo trovato due doppie numero cumero numero 264 doppia quante dubbi troviamo poi abbiamo Pessina del mondo indietro 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 numero 212 almeno questa mancante 10 unito qua qua sotto di nuovo pesina però stavolta doppio abbiamo Pinazzola della Roma numero 242 quindi qua mancante simbolo della Juve che penso che abbia cominciato male il campionato quest'anno per perdere contro il Monza dove 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 127 poi questa chi è? jasi dell'offezia qua ecco 322 quindi qua vediamo vediamo ecco la la bellissima magic 4 della Roma che che andiamo a mettere 435 435 non si capiva 435 435 in questa giro insieme alle fantastelle 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 magic 4 abbiamo bianchetti della cremonese ormai mancante poi abbiamo bian diaz del milan bian diaz numero 192 mancante anche il milan diciamo che non siamo tanto indietro eh a parte la prima pagina che è vuota poi abbiamo andano vice portierone andiamo a vedere se ce l'abbiamo e ce l'abbiamo ragazzi qua 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 doppione e quindi non qua 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 giù poi abbiamo Montipò del Verona speriamo anche questa speriamo questa mancante non doppione eeeh ecco il Verona numero 92 mancante meno male poi abbiamo Agudelo dell'Offpezia ti prego almeno anche questa mancante abbiamo trovato chi può 1 2 3 4 5 6 doppie numero 317 grazie al cielo mancante ok poi abbiamo questo qua chi ha? Igor della Fiorentina l'Origo della Fiorentina 76 76 76 76 vediamo poi la prima eccola poi abbiamo Croato lo Bokta del Napoli numero 225 qua giù mancante Infine Ultima e poi ultima carta Abbiamo icone saetta Andiamo a vedere Andiamo a vedere Anche questo Ora vediamo quanti doppi L'abbiamo trovato Uno Icone Andavano i ciuportierone Due Bianchetti della Cremonese Tre Pessina Del Monza Quattro Colibali Della Salernitana Cinque Magier del Lecce Sette E infine Udoge Diamante Otto Adesso ho contato giusto Sì Una, due, tre Ok Ok Questo video finisce qui Se vi è piaciuto il video Mettete like E mi piace Iscrivetevi al mio canale Ciao a tutti Ci vediamo nel prossimo video